Se operi con le criptovalute e vuoi spostarle da un exchange o da una piattaforma, hai bisogno di un wallet. Nell'ultimo periodo, molti exchange hanno subito attacchi o sono falliti, facendo crescere di fatto l'attenzione degli utenti verso la tematica della custodia. Trust Wallet è un portafoglio digitale molto semplice da utilizzare che consente di conservare criptovalute avendo la custodia delle proprie chiavi private. Cerchiamo di capire in questo video su Trust Wallet se è un portafoglio affidabile, quali sono le caratteristiche e le funzionalità principali. Mettetevi comodi e partiamo! Ciao a tutti e bentornati sul canale di Webeconomia.it. Oggi continuiamo con la nostra serie di video dedicati ai migliori wallet di criptovalute. In questo contenuto parleremo di Trust Wallet, uno dei portafogli digitali più versatili da utilizzare. Trust Wallet fa parte della categoria dei cosiddetti wallet freddi o cold wallet, cioè consente di essere i proprietari delle chiavi private. Grazie ad un'applicazione per smartphone è uno dei più semplici da utilizzare. È stato acquistato da Binance, l'exchange numero uno al mondo, ed è un wallet multi-change e consente di operare su più criptovalute e più blockchain. Ma Trust Wallet è un portafoglio sicuro? Cerchiamo di capire allora in questa recensione su Trust Wallet se si tratta di un portafoglio affidabile o se soffre dei classici problemi dei portafogli software. In descrizione vi lascio naturalmente tutti i riferimenti e i links ai vari siti per approfondire. Prima però vediamo brevemente il concetto di wallet cripto. Un wallet è un portafoglio digitale che ci permette di conservare criptovalute. Possiamo pensarlo proprio come un portafoglio che mettiamo in tasca. In questo caso conterrà valute digitali invece di euro in monete o banconote. Grazie ad un wallet è possibile custodire bitcoin o altre cripto, fare transazioni sulla blockchain ed interagire con le applicazioni. Se vogliamo usare le criptovalute dovremo per forza utilizzare questi portafogli digitali che sono protetti da funzioni di criptografia, ovvero sistemi di sicurezza in grado di proteggere il portafoglio da eventuali accessi non autorizzati. Ogni wallet ha un indirizzo unico che rappresenta un identificatore del portafoglio proprio come può essere l'Iban per un conto tradizionale. Possiamo paragonare il wallet ad esempio a un conto corrente sul quale ricevere denaro e fare transazioni. In questo caso però ad essere scambiate saranno criptovalute e non valute fiat tradizionali come l'euro o il dollaro. Per arrivare ad una definizione più precisa abbiamo bisogno di altri elementi. Abbiamo detto che i portafogli digitali ci consentono di interfacciarci con la blockchain e lì infatti che avvengono le transazioni che rimangono per sempre scritte e non si possono modificare. Le criptovalute viaggiano dunque sulla blockchain e non sono depositate fisicamente sul wallet. Quando vogliamo ricevere criptovalute o inviarle comunicheremo semplicemente il nostro indirizzo pubblico del wallet in genere sotto forma di stringa o codice alfanumerico o QR code per ricevere bitcoin e tutti gli altri token. Da un punto di vista tecnico quindi un wallet non contiene criptovalute bensì una coppia di chiavi, una chiave pubblica ed una chiave privata. La chiave pubblica è una stringa di caratteri che rappresenta l'indirizzo del wallet al quale inviare e ricevere criptovalute. E in pratica come il numero del nostro conto corrente lo possiamo dare a chiunque senza problemi. La chiave privata invece non deve essere data assolutamente a nessuno ed è come la password o il pin del nostro conto. Una chiave privata dunque serve per accedere al wallet, verificare le transazioni e dimostrare che siamo effettivamente i proprietari di quel wallet. Questa può essere una frase o una stringa di caratteri alfanumerici. Se avete seguito il discorso ora possiamo chiarire cos'è un wallet. Ci servirà tra poco quando parleremo di Trust Wallet. Un wallet di criptovalute quindi è un portafoglio digitale che ci consente di custodire le chiavi private delle nostre cripto e quindi più simile ad un portachiavi piuttosto che a un portafoglio vero e proprio. In generale possiamo racchiudere i wallet in due grandi categorie che determinano chi possiede effettivamente le chiavi private e l'elemento base della custodia. Un wallet può quindi essere di due tipi non custodial in cui abbiamo il possesso delle chiavi come ad esempio gli hardware wallet oppure di tipo custodial in cui altri soggetti detengono le chiavi private ad esempio gli exchange. Il termine quindi indica che diamo in gestione la custodia delle nostre chiavi ad un soggetto terzo come può essere ad esempio un exchange tradizionale come Binance, Crypto.com o Kraken. Non entro nel dettaglio di questi concetti perché li ho spiegati in un video di qualche giorno fa che parla proprio del funzionamento di un wallet e di tutte le caratteristiche tecniche. Ve lo lascio qui sopra ed in descrizione. Che cos'è quindi Trust Wallet? È un wallet non custodial di tipo software che consente di operare tramite applicazione mobile su varie blockchain. Trust Wallet è un portafoglio di criptovalute che supporta più di 4,5 milioni di asset digitali ed è utilizzato da più di 25 milioni di utenti nel mondo. È quindi un wallet che funziona su oltre 65 blockchain cioè di tipo multichain ed è uno dei più semplici da utilizzare tanto da essere considerato uno dei migliori portafogli software per operare con le criptovalute. Trust Wallet è disponibile come app per smartphone quindi in versione mobile sia per Android che iOS oltre che in versione desktop come estensione del browser. Questo portafoglio è nato inizialmente come wallet su rete Ethereum come ad esempio Metamask dunque in grado di supportare i cosiddetti token RC20. Nel 2018 è stato acquisito da Binance e quindi nel tempo ha aggiunto il supporto a numerosi token e coin tra cui ovviamente quelli della BNB chain. Ora per esempio può essere anche utilizzato per Bitcoin. Le funzioni principali di Trust Wallet sono le seguenti. La custodia di criptovalute tramite wallet software integrati, lo scambio decentralizzato o swap, lo staking di criptovalute, la possibilità di questo dire NFT cioè non fungible tokens e poi un marketplace per navigare nelle principali applicazioni decentralizzate Web3. Cerchiamo di vedere nel dettaglio come usare le singole funzionalità. Andiamo quindi subito sul sito di Trust Wallet che vedete qui che è trustwallet.com e facciamo tutto dall'inizio scaricando l'applicazione per vedere come funziona. Come prima cosa dobbiamo scaricare l'applicazione mobile per creare un nuovo wallet o importarlo se ne abbiamo già uno. Il download è gratuito ed è disponibile sia sull'App Store come vedete qui quindi per iPhone sia dal Play Store per gli utenti Android. Una cosa che notiamo subito è la pulizia estrema dell'interfaccia, una caratteristica che rende Trust Wallet uno dei portafogli più apprezzati in termini di semplicità. Vedete qui che sono sull'App Store per iPhone e possiamo scaricare questa applicazione che si chiama Trust Wallet Crypto e Bitcoin. Una volta scaricata l'app sul nostro smartphone vedremo questa schermata. Abbiamo quindi due opzioni crea un nuovo wallet oppure ho già un wallet. Perché non abbiamo creato un portafoglio scegliamo la prima opzione crea un nuovo portafoglio e vedete qui che dobbiamo accettare le informative sulla privacy e quindi le selezioniamo e clicchiamo su continua. Come prima cosa impostiamo un codice di sicurezza di 6 cifre che non dovremo mai scordare. Il passo successivo è quello della seed phrase o frase segreta ovvero le 12 parole che dovremo memorizzare e che ci serviranno per ripristinare il wallet nel caso in cui il nostro account venga compromesso o se si rompe il pc. Impostiamo quindi un nuovo codice di accesso che dovremo memorizzare. In questa schermata vedete poi delle informative che ci dicono che se perdiamo queste 12 parole non potremo più recuperare le criptovalute. Le accettiamo una per una e clicchiamo su continua. A questo punto il sistema ci mostra le 12 parole segrete come vedete in questa schermata. Abbiamo oscurato le parole chiave in quanto come sapete non bisogna mai darle a nessuno. È importante memorizzare anche l'ordine in cui vengono fornite queste parole. Se possibile evitate di fare uno screenshot del telefono ma trascrivetele su un foglio nell'ordine in cui le vedete sullo schermo. Conservate queste parole al sicuro in quanto saranno importantissimo nel caso in cui dovrete recuperare il wallet in caso di emergenza. Fatto questo clicchiamo su continua. Se provate infatti a fare uno screenshot con il vostro smartphone il sistema stesso vi dirà che non è sicuro fare uno screenshot di queste chiavi private. Bene ora è necessario verificare la seed phrase inserendo le parole nell'ordine in cui le abbiamo trascritte. È una procedura necessaria per tutti i wallet per assicurarsi che voi abbiate trascritto la frase di recupero in modo corretto. Cliccando su continua il wallet è stato creato e viene lanciato un piccolo tutorial che spiega le funzioni di base. Vediamo ora le funzioni principali che abbiamo a disposizione analizzando la schermata principale o la dashboard di trust wallet. Come vedete abbiamo varie sessioni come prima cosa il saldo del nostro portafoglio e poi subito sotto alcune funzioni che ci consentono di inviare criptovalute e ricevere un pulsante compra per acquistare e un pulsante scambia per fare lo swap di token. Se vogliamo ad esempio comprare criptovalute possiamo utilizzare il pulsante compra. Ci clicchiamo sopra e selezioniamo il token che vogliamo acquistare e inseriamo l'importo. Come vedete in questa schermata supponendo di voler comprare ethereum avremo a disposizione dei servizi esterni con cui comprare le cripto. Vedete qui Moonpay, Ramp, Transac e tanti altri che vengono utilizzati anche da altri servizi e wallet. Attenzione ovviamente alle commissioni con carta di credito e con questi servizi che possono essere molto più alte rispetto al tradizionale acquisto tramite exchange. C'è da dire che comunque è una modalità molto comoda e adatta ai principianti anche se costosa. Sotto invece vedete che ci sono due sezioni. Tokens mostra l'elenco delle criptovalute che abbiamo in portafoglio. All'inizio poiché il wallet è vuoto vedremo bitcoin, ethereum e i token della bnb chain. Se vogliamo aggiungere un token possiamo cliccare ad esempio su add token. NFTs invece ci mostra l'elenco degli nft che abbiamo in portafoglio o che abbiamo acquistato su rete ethereum. Ancora più in basso nella dashboard abbiamo quattro sessioni wallet è la schermata principale del portafoglio. Discover mostra l'elenco delle applicazioni dei file più famose. Browser mostra invece l'elenco dei collegamenti e della storia delle transazioni fatte. In impostazioni invece è possibile accedere alle impostazioni del wallet, utilizzare il QR code per scannerizzare gli indirizzi, impostare degli avvisi personalizzati o utilizzare il servizio wallet connect che ci consente di utilizzare Trust Wallet in dApps che non lo supportano. Passiamo ora allo staking. Con Trust Wallet si può fare infatti staking direttamente dall'app. Andiamo nella sezione discover che abbiamo citato in precedenza e avremo questa schermata che mostra tutte le applicazioni di token supportati. All'inizio come vedete abbiamo una sezione in cui è possibile mettere in staking le nostre coin con degli EPR interessanti. Cliccando su vedi tutte vengono visualizzate tutte le coin su cui si può fare staking. Abbiamo un'ampia scelta come Solana, Polkadot ma anche i token dell'ecosistema Cosmos come Atom, Osmo ed Evumos. Supponiamo di voler mettere in staking Evumos. Clicchiamo quindi sulla scheda di Evumos e poi sul pulsante stake. Vedete alcune informazioni come l'EPR offerto, il tempo di blocco e il pulsante stake per continuare. Cliccando ancora su stake è possibile scegliere il validatore a cui delegare i nostri fondi per convalidare le transazioni. Vedete qui che ho l'elenco dei validatori come Cosmos Station, Swiss Staking e tutti gli altri. Una volta terminate le operazioni le nostre coin saranno delegate al validatore scelto e possiamo fare l'unstake dopo il tempo prestabilito. Controllate quindi tutte le informazioni visualizzate sull'applicazione, scegliete il validatore e confermate l'operazione per far partire lo staking. In Trust Wallet è poi possibile fare lo swap di token e scambiare criptovalute in modo decentralizzato. Come vedete c'è un pulsante scambio, se clicchiamo vediamo che si tratta di un'operazione molto basilare che ci consente di fare uno swap molto semplice, è in pratica come fare lo scambio sugli exchange con le classiche operazioni a mercato, in cui si scambia semplicemente sulla base del prezzo che i due token hanno in quel preciso momento. Inseriamo quindi la quantità del token da scambiare nel campo paghi e in ottieni vedremo l'equivalente che otterremo dalla conversione. In questo caso se scambio 10 Ethereum otterrei 12.145 circa USDC, cioè la stablecoin di Circle. Se andiamo su paghi vedete che è possibile scambiare varie token su blockchain diverse, ad esempio possiamo scambiare la stablecoin USDC sia su rete Polygon che su Avalanche, più tantissime altre chain su cui possiamo fare lo swap. Se tutto è corretto quindi possiamo cliccare sul pulsante scambio per procedere con lo swap. Ovviamente questa è un'operazione semplice che in genere è destinata ai principianti, infatti non ci consente di inserire ordini più complessi come quelli limiti ad esempio che utilizziamo sugli exchange per comprare una criptovaluta ad un prezzo prefissato o al raggiungimento di determinate condizioni. Nella sezione browser possiamo fare una ricerca di interagire direttamente con le applicazioni decentralizzate. In genere possiamo utilizzare due approcci, connetterci direttamente con la Dapp in modo nativo con Trust Wallet oppure connetterci sfruttando Wallet Connect. Proviamo a cercare una classica applicazione DeFi ad esempio Uniswap su rete Ethereum. Vedete qui che se vado su Uniswap posso cliccare su collegare e ho a disposizione Wallet Connect che mi consentirà tra le altre cose di utilizzare Trust Wallet. Ci clicco e clicco su connetti. In questo momento quindi sto utilizzando il Trust Wallet che ho appena configurato per interagire con l'applicazione di Uniswap. Proviamo a cercare invece adesso un'altra applicazione DeFi su rete Binance. Proviamo ad esempio a interagire con un'altra applicazione invece che supporta Trust Wallet in modo nativo. Cerchiamo ad esempio SushiSwap. Vedete qui in questo caso che se clicco su Connect Wallet ho a disposizione l'accesso nativo tramite Trust Wallet. Quindi clicco su Trust Wallet, confermo e in questo momento sto utilizzando sull'applicazione di SushiSwap il wallet Trust Wallet appena configurato. Tutto molto semplice. In questo modo possiamo collegare il nostro portafoglio Trust Wallet alle applicazioni decentralizzate ed operare in DeFi in modo molto semplice. Vedete qui che nella schermata browser ho la history di tutte le operazioni fatte. Il portafoglio Trust Wallet è considerato uno dei migliori wallet di criptovalute ed è considerato sicuramente un portafoglio tra i più semplici e versatili da utilizzare. La migliore scelta in termini di sicurezza rimane sempre quella degli hardware wallet. Tuttavia Trust Wallet può essere considerato una buona alternativa tra i portafogli software disponibili. Rispetto ai wallet integrati negli exchange per utilizzarlo non abbiamo bisogno di fare procedure di KYC quando si crea un nuovo account, dunque non memorizza i dati degli utenti. Questo però varrà ancora per poco. Infatti in Europa si discute già della normativa amica che dovrebbe portare all'identificazione delle transazioni verso i cold wallet. Può essere considerato comunque uno dei più sicuri in quanto ricade nella categoria dei wallet non custodial e quindi bisognerà memorizzare la frase di recovery, le 12 parole da custodire e preoccuparsi delle procedure di ripristino. Naturalmente i software possono subire degli attacchi informatici, soprattutto nel caso in cui il nostro PC dovesse essere compromesso o attaccato da virus. È quindi buona norma conservare la seed phrase o frase di backup in un luogo separato dal PC in cui è installato Trust Wallet. Questo serve per evitare la possibilità che il wallet venga violato e dunque perdere le proprie criptovalute. Trust Wallet è un portafoglio che nasce come applicazione mobile e come cold wallet, dunque non esiste un'applicazione desktop che funziona sul PC. È possibile però utilizzare un'estensione del browser che permette di accedere al portafoglio. Attualmente come vedete qui sono supportati Chrome, Brave, Opera e Microsoft Edge. Per poter utilizzare Trust Wallet è necessario importare il wallet all'interno dell'estensione e dunque di questo diminuisce di molto la sicurezza. Per farlo clicco su Get Trust Wallet e aggiungo l'estensione al mio browser. Come vedete qui posso utilizzare anche Trust Wallet tramite questa estensione browser. Per farlo clicchiamo su Importa o Recupera Wallet. Vedete qui che dovremo scrivere la seed phrase che abbiamo precedentemente memorizzato. Una volta che abbiamo inserito la seed phrase confermiamo cliccando su Procedi. Impostiamo adesso una password che ci consentirà di accedere all'estensione di Trust Wallet. Una volta scelta una password sicura e accettate le condizioni di utilizzo clicchiamo su Successivo. Vedete qui che siamo riusciti a importare il nostro wallet con successo. Clicchiamo su Apri Wallet e vedete che abbiamo un'app simile a quella mobile però con delle funzionalità più limitate. Nel momento in cui vogliamo operare in DeFi ad esempio sulle applicazioni decentralizzate vedete qui Pancake Swap. Cliccheremo semplicemente su Connect Wallet e poi su Trust Wallet che in questo caso viene supportato in modo nativo. In questo modo quindi è possibile utilizzare Trust Wallet tramite il PC. Trust Wallet fa parte di un progetto crypto più ampio che prevede tra le altre cose un token che è chiamato TWT. Il Trust Wallet token non ha grandi utilizzi ma nel Birmark del 2022 è stato uno dei token che ha resistito meglio ai ribassi. Vedete qui che nell'ultimo anno il prezzo è cresciuto rispetto alle altre altcoin. Vedete qui che si tratta di un utility token di tipo BEP20 cioè token della rete di Binance Smart Chain che fornisce degli incentivi agli utilizzatori di Trust Wallet. Tra i vantaggi alcuni sconti sugli acquisti di criptovalute con l'applicazione per quanto riguarda le commissioni o la possibilità di votare le proposte della governance. Il fallimento di molti exchange e fondi legati alle criptovalute ha fatto nascere una maggiore consapevolezza sugli aspetti legati alla custodia e così molti investitori in alcune fasi hanno puntato proprio sui token dei servizi legati alla custodia tra cui anche Trust Wallet token che ha ottenuto delle buone performance. Ad oggi è possibile acquistare Trust Wallet token come vedete qui nei mercati su exchange come Binance o sulle applicazioni decentralizzate come PancakeSwap o SushiSwap. Bene siamo arrivati alla fine di questo video abbiamo visto cos'è Trust Wallet e quali sono le sue funzionalità principali. È un portafoglio molto flessibile in quanto dispone di un'app mobile molto semplice da utilizzare e di una grafica immediata che semplifica la gestione delle proprie criptovalute. Trust Wallet infatti si adatta molto bene ai principanti che possono così comprare e vendere cripto direttamente dall'interfaccia dell'applicazione senza uscire su siti esterni o exchange. Come sapete esistono molti protocolli e blockchain che richiedono l'utilizzo di un wallet proprietario. Trust Wallet è in grado di aggregare più blockchain in quanto è multichain e quindi consente di gestire le proprie criptovalute da un unico punto. Tra gli svantaggi dobbiamo segnalare il fatto di essere un wallet software che accede a internet per alcuni tipi di operazione e dunque soffre di tutte le problematiche di questo tipo di portafogli ovvero possono essere attaccati o vulnerabili. È comunque una buona scelta per chi vuole avere un portafoglio semplice da utilizzare e custodire contemporaneamente le proprie chiavi private. In descrizione qui sotto vi lascio naturalmente tutti i riferimenti ai vari siti per comprare criptovalute ed accedere ai vari servizi. Naturalmente vi invitiamo a iscrivervi al canale per supportarci, a mettere mi piace e attivare le notifiche per rimanere aggiornati con questi contenuti e a lasciarci naturalmente i vostri commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo naturalmente al prossimo video!